Più di 3.000 persone sono state evacuate nelle ultime ore dalle aree della regione occidentale russa di Kursk, colpita dall'offensiva dell'esercito ucraino. Il Ministero russo dell'emergenza ha dichiarato sabato che più di 10.000 residenti sono stati ospitati in centri di accoglienza temporanea in altre parti del paese. La spinta militare verso Kursk non si arresta. Le forze ucraine hanno conquistato diversi villaggi e fatto saltare due ponti fondamentali per i collegamenti delle truppe di Mosca. Si tratta del più grande attacco alla Russia dalla Seconda Guerra Mondiale. Kiev spera che l'incursione a sorpresa, iniziata il 6 agosto, cambi la dinamica del conflitto che dura da più di due anni. Ma i funzionari ucraini hanno ripetutamente dichiarato che l'obiettivo dell'operazione non è quello di occupare i territori russi, ma di costringere Mosca a negoziare la pace alle condizioni di Kiev.